Vieni, stai lì, stai lì, stai lì. Tizio, no, 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 hai mangiato e ben bevuto? E lui gli fece vedere il buco, il buco del camino, ti metti lì e facciamo... Scegli tu. Allora, voi, Marlene, Cicogna, Fuga, senza cambiare le vocali, eh, Fuga. Dimmi quella che vuoi, dai. Cicogna? Va bene. Gli ho detto, voi chiedete quello che... Noi facciamo tutto. Qui c'è un jukebox. Qui inserite il gettone e nuotre asunè. Noi facciamo tutto. 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 Noi facciamo un'altra. Un applauso Tizio. Tiziano e Deborah. Tizio Folco. Tizio da San Marino eh. Da San Marino. Un doppio applauso. Fatelo, fatevi vedere. Lui è proprio dall'estero eh. Stasera c'è Tele San Marino in diretta. Domani vi ci... Oh ragazzi c'è qualcuno che c'ha l'amante che non si faccia vedere perché... Facciamo un'altra polca? Perché noi siamo specialisti...